Una finestra sul futuro, tanto per cambiare aria, guardando l'orizzonte e facendo ipotesi, affacciati sul panorama politico, che è una stazione, c'è sempre chi arriva e chi parte, c'è chi piange e chi ride, chi litiga e chi si abbraccia. Al binario 1 c'è un signore con la valigia, somiglia a Francesco Rucco, è lui o non è lui? E soprattutto, su quale treno potrebbe salire? Su quello diretto verso la Lega? No, il carroccio è un treno da cui in Veneto oggi c'è chi scende, non chi sale. Forse Italia nemmeno è un partito in ricostruzione. E allora vuoi vedere che il treno su cui potrebbe salire Francesco Rucco è quello di Fratelli d'Italia? Ma è possibile? L'ex sindaco civico può davvero prendere la tessera di un partito che alle ultime amministrative a Vicenza ha raccolto meno voti di quanti ne abbia intercettati la prima forza politica di centrodestra in consiglio comunale, la lista Rucco sindaco? Forse sì, e non tanto perché Francesco Rucco sia un ex alleanza nazionale, ma piuttosto perché potrebbe essere un ottimo acquisto per il partito della premier Giorgia Meloni. E per lui, per Francesco Rucco, potrebbe essere un modo per cambiare marcia dopo l'ultima corso elettorale. In questa ipotesi però è fortemente improbabile che l'ex sindaco perda il patrimonio politico che ha faticosamente costruito nel civismo. Insomma, la lista Idea Vicenza, poi diventata Rucco sindaco, sicuramente non verrà sacrificata. Ora bisogna vedere la prossima mossa e forse, diciamo forse, non bisognerà aspettare che una manciata di ore. Sì, perché casualmente domani Fratelli d'Italia ha convocato una conferenza stampa a Vicenza con tutta la nobiltà del partito. Dal presidente provinciale, l'onorevole Silvio Gioveni, al capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Tommaso Foti, fino al coordinatore regionale Luca De Carlo. Un parterre da grande cerimonia, tipo matrimonio. Certo, tra gli invitati non compare Francesco Rucco. E se lui fosse lo sposo?